Ciao ragazzi, benvenuti a The Wildlife Corner, il video podcast dedicato alla fotografia naturalistica. Oggi vi voglio raccontare la mia recente esperienza fotografica in Scozia. È una cosa che si può organizzare in maniera abbastanza semplice, non è particolarmente costosa, è relativamente vicino e quindi se volete fare una cosa che fotograficamente è molto divertente e interessante, ma se non volete spendere una fortuna, questa potrebbe essere una cosa che fa per voi. In questo video vi racconto come ho avuto l'idea, come l'ho organizzata e vi racconto un po' in retroscena delle foto che ho già pubblicato, ne commentiamo qualcuna e anche vi do qualche consiglio tecnico sulle attrezzature, sul vestiario e un po' in generale sull'organizzazione. Allora, intanto come mi è venuta l'idea? Ero alla ricerca di qualcosa da fare durante l'inverno e mi è arrivata una newsletter, uno dei tanti siti a cui sono abbonato, in cui si parlava di fotografia in Scozia e c'era in particolare il link al sito di una guida, che è un ragazzo abbastanza giovane, sono andato a guardare quello che faceva, mi sono piaciute molto le foto che aveva pubblicato, anche un po' le cose che aveva scritto e quindi ho deciso di contattarlo. Ci siamo accordati su un periodo che lui aveva disponibile e ho organizzato con lui tre giornate fotografiche. Sono delle esperienze fotografiche che naturalmente si possono fare tranquillamente anche senza una guida del posto, ma ho scelto di non andare da solo perché le specie che mi ero proposto di fotografare, quelle che poi sono tipiche della fauna scozzese, non sono così semplici da distare e da fotografare come potrebbe essere in altre circostanze. Per esempio, quando vado negli Stati Uniti, in Canada, generalmente vado quasi sempre da solo, conosco dei posti dove vado abbastanza di frequente e ci sono dei parchi nazionali dove è praticamente impossibile non trovare della fauna. In Scozia la situazione è un po' diversa perché c'è una vasta area che sarebbe un parco nazionale, ma la protezione di questo parco nazionale è molto più lasca di quella che noi immaginiamo, la fauna è molto sparsa e le specie che mi ero proposto di fotografare sono in particolare la pernice bianca e la lepre di montagna, che hanno la caratteristica di essere delle specie mimetiche, cioè d'inverno diventano ambedue bianche e la loro mimesi con il terreno innevato è veramente forte, quindi se uno non sa dove andare a cercarle è molto complicato riuscire a fotografarle. Questo ragazzo vive nell'area di Inverness, vicino al famoso lago di Loch Ness del relativo fantomatico mostro e quindi ho deciso di andare in quella zona. Cominciamo con l'organizzazione logistica di come arrivare. Allora le opportunità, almeno dall'area di Roma, sono due. O volare fino a Edimburgo, noleggiare una macchina e poi andare verso Inverness, sono circa due ore e qualcosa di guida. E l'altra opzione era invece quella di fare un volo a Londra, quindi fare uno scalo, e poi prendere un volo interno per Inverness e da lì praticamente fare cinque minuti di automobile per arrivare in un posto dove dormire. Ho scelto questa seconda opzione perché non sono un fan della guida a sinistra, ho comunque noleggiato una macchina per spostarmi dall'aeroporto a questo bed and breakfast dove ho soggiornato, che poi vi lascio comunque in descrizione. Ma diciamo che la guida a sinistra è una cosa che mi lascia sempre un po' perplesso, soprattutto quando arrivo alle rotatorie o alle cose dove c'è una memoria muscolare fatta al contrario, quindi dove noi tendiamo ad andare da una parte e invece bisogna andare dall'altra. Quindi ho preferito la soluzione più comoda dal punto di vista della guida, che però è più scomoda dal punto di vista del viaggio, almeno dall'area di Roma, perché bisogna fare uno scalo a Londra abbastanza lungo. Il viaggio in sé però è piuttosto semplice, in realtà ci vogliono un paio di ore e qualcosa per arrivare a Londra da Roma, poi ripeto questo scalo un po' lungo e poi un'oretta per arrivare ad Inverness. Ho trovato un posto dove alloggiare molto carino, abbastanza economico, molto pulito, molto ben fatto, bellissima colazione, proprietari estremamente gentili e disponibili e la mattina dopo del mio arrivo ho incontrato questo ragazzo, questa guida, di cui poi vi lascio sempre i dettagli in descrizione se volete fare un'esperienza del genere. Abbiamo fatto tre giornate, nella prima giornata ci siamo focalizzati sulla pernice bianca, poi nella seconda giornata siamo andati a fotografare la lepre di montagna e lo scogliattolo e nella terza giornata siamo tornati a fotografare la lepre di montagna con la neve, perché nel frattempo nella terza giornata aveva nevicato un po', e con un bonus finale che poi vi dico. Allora, queste esperienze fotografiche mi hanno confermato quello che pensavo, cioè che non andando con una guida sarebbe stato estremamente difficile riuscire a fotografare queste specie che mi ero prefissato, perché sono innanzitutto molto mimetiche, come già avevo detto prima, ma poi sono anche in delle zone che sono abbastanza impervie dove bisogna arrivare e pur sapendo queste zone trovare poi gli animali all'aperto non è così facile. Quando poi li si è trovati ci sono degli animali che sono più confidenti e quindi si lasciano avvicinare ed altri invece che tendono ad andare via. Questo è vero sia per le pernici sia per la lepre di montagna. L'andare con una guida del posto che conosce bene la zona, addirittura questa guida con cui io sono stato conosceva addirittura gli individui che si trovavano in quelle zone perché ci va tutti i giorni e quindi già sapeva in anticipo quali avremmo potuto avvicinare di più e di meno. E questo è una cosa che se volete fare delle buone fotografie ovviamente vi aiuta tantissimo. Detto questo non è stato affatto facile perché bisogna camminare un po', bisogna fare dei percorsi abbastanza impervi per arrivare dove sono gli animali. Allora per la pernice bisogna salire piuttosto in quota, sono delle montagne che loro chiamano highlands ma non sono delle vere e proprie colline, insomma bisogna partire da una quota molto bassa per arrivare a una quota molto alta. Il posto dove si trovano le pernici era innevato ma era una neve vecchia quindi ghiacciata in molti tratti e in altri tratti dove era più soffice siccome il terreno è fatto di pietre ci si poteva cadere dentro e sprofondare anche di un metro perché sotto non sempre c'era il terreno, quindi una salita abbastanza faticosa. Chiaramente non distanze enormi ma insomma ci abbiamo impiegato un'oretta forse anche più per poter arrivare sopra, quindi un buon dislivello di 300-400 metri, una buona camminata insomma di po' di chilometri in montagna. Sicuramente alla portata di tutti però bisogna fare attenzione perché insomma il terreno è un po' insidioso. Arrivati in quota abbiamo cercato queste pernici in varie peripezze, insomma le abbiamo poi trovate prima due e poi un altro gruppo in cui ce n'erano sette o otto circa e siamo riusciti comunque a fare delle buone foto. In particolare delle prime due pernici ho fatto anche una cosa che non pensavo di riuscire a fare cioè fotografarne una in volo praticamente quasi frontalmente e vi faccio vedere adesso qui le foto sul video per chi sta ascoltando la versione podcast trova sempre nella descrizione come al solito le immagini. Vedete questa che passa ora è la foto della pernice e una di quelle che sono di cui sono più soddisfatto ma insomma in generale ne ho fatte diverse quel giorno è stata veramente una bella esperienza, un animale che io non avevo neanche mai visto davvero ed è stato veramente molto molto divertente e molto molto interessante. Questa che passa invece successivamente è la famosa lepre di montagna che è uno degli animali che avrei sempre voluto fotografare ma appunto non avevo mai avuto l'occasione di farlo e qui è la prima giornata quella dove non c'era la neve. Questa invece che passa adesso è la stessa specie ma ovviamente non la stessa lepre ma in una giornata successiva dove invece c'era appunto la neve e la notte prima aveva praticamente nevicato. Le lepri si trovano a quote sostanzialmente più basse della pernice ma il terreno su cui si trovano è sempre abbastanza ripido e abbastanza impervio quindi anche qui bisogna camminare un po'. La caratteristica della zona dove si trovano le lepri, ce ne sono diverse, noi ne siamo andati in una specifica zona, è che c'è un vento fortissimo. Il primo giorno siamo rimasti, siamo saliti molto in alto, il secondo giorno invece siccome le condizioni meteo erano molto peggiori siamo rimasti a una quota più bassa. Comunque quando si sale anche a quote medie ma soprattutto quando si arriva proprio in alto sulle creste di queste colline il vento è fortissimo e quindi anche il freddo lo si avverte tantissimo quindi diciamo è una condizione abbastanza impegnativa fisicamente. Anche qui bisogna camminare per un bel po', bisogna anche trovarle questi animali perché ripeto non ce ne sono così tanti come uno potrebbe pensare purtroppo e questa è una cosa di cui parliamo tra un attimo. Comunque anche in questo caso chiaramente la conoscenza del territorio, la conoscenza addirittura dei singoli individui che insomma stanno in quella zona ci ha permesso di fare delle foto molto carine. Questa che vedete è fatta da una distanza molto breve, molto piccola, sono circa probabilmente 5-6 metri insomma ma ci si poteva probabilmente avvicinare anche di più. Io tendo a non avvicinarmi mai troppo agli animali per non essere troppo intrusivo e in questo caso anche per una questione egoistica perché la lepre sembra avere una dimensione quando è accovacciata ma quando si alza in piedi diventa il doppio della dimensione e quindi se si alza poi non si riesce, se si è troppo vicini non si riesce a farla rientrare nel frame della foto. Molte lepri non sono così amichevoli nel senso che quando vedono una persona scappano, altre invece sono tolleranti alle persone per cui se uno si avvicina nel modo dovuto molto lentamente senza esagerare, fermandosi piano piano, facendosi studiare, non arrivandogli mai alle spalle, insomma seguendo tutta una serie di diciamo di piccole regole anche di buonsenso e alla fine poi diventano abbastanza tolleranti, rimangono lì in totale beatitudine e quindi uno può divertirsi a fare tutte le foto che vuole. Ho tante foto che ho fatto, adesso ho pubblicato questa che era una di quelle mi piaceva di più ma ne ho tante anche con delle facce buffe perché quando si muovono masticano eccetera, fanno delle facce anche molto carine. Talvolta all'improvviso si alzano, si stiano, corrono via, poi magari tornano addirittura nello stesso posto, si rimettono nello stesso posto, insomma è veramente un'esperienza fantastica. Il lato negativo diciamo di queste esperienze sia di quello della pernice che dell'epre di montagna è purtroppo la scarsità di questi animali che è dovuta a tantissimi fattori ma primo tra tutti riscaldamento globale perché la quantità di neve era veramente pochissima anche se poi l'ultimo giorno ha un pochino nevicato ma devo dire veramente una quantità minima e per questi animali è un grave problema sia perché la loro mimesi funziona di meno quindi diventano visibili e quindi i loro predatori in particolare l'aquila reale riescono a vederli facilmente. Il secondo è anche perché il fatto che la temperatura cresca favorisce lo sviluppo di vegetazione anche arborea e in quota e quindi rovina l'ecosistema nel quale loro sono adattati a vivere. Quindi è una cosa di quelle che come al solito fa riflettere, fa riflettere sull'importanza del preservare l'ambiente e di quello che noi dovremmo fare per cercare di salvare questi animali meravigliosi. Pensate che in questa specifica zona dove io ho fotografato questa lepre che avete visto poco fa, tipicamente negli anni passati ce n'erano un centinaio che stazionavano in questa specifica area. In tutti e due i giorni che siamo stati lì noi ne abbiamo incontrate non più di una decina di individui diversi con vari livelli di confidenza ma comunque non più di dieci quindi una decrescita diciamo sostanziale. Come se non bastasse purtroppo molti di questi animali continuano anche a essere cacciati. In Scozia c'è una grande porzione dei terreni che sono di proprietà di famiglie aristocratiche che ancora praticano la caccia e pagano milioni di sterline all'anno per mantenere queste licenze e quindi è una condizione diciamo abbastanza spiacevole. Lato positivo è che mi raccontava questa guida che ormai la maggior parte delle persone che vanno in Scozia l'unica caccia che fanno è quella fotografica cioè gli scozzesi vanno ancora a caccia i nobili scozzesi ma le persone che vengono come turisti per il 99 per cento sono invece persone che sono interessate a vederli gli animali e a fotografarli e questa è una cosa molto buona. Mi raccontava anche che la politica ambientale della Scozia è decisamente migliore di quella dell'Inghilterra e questo è uno dei tanti motivi di contrasto fra gli scozzesi e gli inglesi che poi il contrasto che si ha guido in particolare di recente con la Brexit. Ora a parte queste considerazioni generali che a me piace sempre fare per raccontare tutti i lati della fotografia che poi è sempre quello del mio scopo, far vedere degli animali, far vedere che cosa c'è di bello in natura ma anche cercare di sensibilizzare le persone per fare cose che possano aiutarci a preservare quello che c'è in natura. Come dico sempre non c'è bisogno di fare cose eclatanti, basta essere il più attenti possibili anche nella vita quotidiana, per esempio fare la raccolta differenziata, magari non comprare macchine che facciano tre all'idro, cercare di fare degli acquisti più consapevoli, ecco piccole azioni che magari sommate possono avere un impatto notevole. A parte questo dicevo consigli fotografici, chi volesse andare in questi posti e fare delle foto di questo genere, intanto vi consiglio comunque di andare con una guida, vi lascio nella descrizione i link di questa guida con cui io sono andato che ripeto è una persona molto in gamba e che conosce veramente bene il territorio, oltre che un conservazionista, una persona molto attenta alla natura, ma ce ne sono anche altri, ci sono dei personaggi molto famosi in Scozia come fotografi naturalisti che organizzano comunque cose di questo genere, basta che cercate Wild Eye Photography Scotland su Google e ne trovate diversi. Questo è un consiglio che mi sento di darvi perché ripeto, andando da soli sicuramente si può trovare una lepre di montagna, sicuramente si può trovare una pernice, ma insomma fare cose fotografiche così ben delineate, così ravvicinate, potrebbe non essere così semplice. La seconda cosa riguarda invece l'attrezzatura e la terza è il vestiario. Allora attrezzatura, io ho portato l'attrezzatura che ho e quindi sono andato come al solito con la mia D850 con il mio 500 PF che per chi non usa Nikon è un obiettivo 500 fisso ma molto piccolo e quindi molto maneggevole che si può portare facilmente in montagna e in più ho portato la Z6 con la quale ho fatto qualche piccolo video e ho fatto anche un po' di foto. Il consiglio che vi do, cioè quello che vi serve è sicuramente un teleobiettivo, potrebbe pagare, potrebbe dare un buon risultato, uno zoom, magari un 150-600, cose di questo genere, se volete fare anche degli scatti ambientati o se volete avere la flessibilità di poter fotografare anche magari la lepre quando si allontana o si avvicina o cose di questo genere, avere un fisso ovviamente ha dei pregi in qualità ma dei difetti in flessibilità. Quello che vi consiglio è di non portare un'attrezzatura estremamente pesante, ho visto delle persone arrampicate su queste Highlands con il 600 F4 e il treppiede ghizzo di quelli sapete da 1500 euro che pesano 5 kg e ho visto della gente veramente sull'orlo dell'infarto perché comunque è una cosa fisicamente piuttosto impegnativa. Quindi vi consiglio ecco di portare un'attrezzatura flessibile e diciamo possibilmente non pesantissima perché c'è comunque da camminare abbastanza, cioè non è un'esperienza da capanno in cui uno arriva con un 800 millimetri da 5 kg, piazza il treppiede, si mette lì e fa le foto, ecco non è una cosa di questo genere. Quindi siate preparati a dover camminare un po' a fare 5-10 chilometri in montagna, a salire dei slivelli di 300-400-500 metri e insomma quindi portate l'attrezzatura, ecco tenete presente questo, tenete presente i vostri limiti nel trasporto del peso. Per quanto riguarda invece il discorso ambientale la cosa più importante è che siate assolutamente coperti per il freddo perché è una il clima non era freddissimo cioè la temperatura della mattina poteva scendere intorno a meno 1, meno 2, forse meno 5, la mattina più fredda e poi durante il giorno saliva a temperature anche oltre 10 gradi ma il problema è che su queste colline c'è un freddo enorme quindi io consiglio sempre il classico vestiario a strati, generalmente quello che faccio io personalmente è salire con una maglietta termica e un primo strato, un pile o insomma un polar tech o un qualcosa di tecnico se non è eccessivamente freddo quindi senza strati superiori per non sudare molto oppure al limite metterci uno strato antivento e poi porto nello zaino uno strato termico tipo un piumino sintetico cose di questo genere da poter mettere sotto se fa effettivamente molto freddo e è importante che lo strato antivento sia efficace perché il vento è fortissimo e abbassa tantissimo la temperatura percepita per fortissimo intendo 100 150 chilometri orari certi in certi momenti si faticava a rimanere fermi e a camminare ecco questo è l'intensità del vento considerate che siete su una collina alta per esempio 1000 1200 metri con il nulla intorno quindi il vento assolutamente le spazza una velocità fortissima e un'altra cosa importante che diciamo io sono stato abbastanza bene nel senso che ero attrezzato quindi avevo tutti questi strati che vi dicevo li ho usati nel modo in cui vi ho detto quindi quando sono arrivato sopra in quota mi sono ben coperto sono stato molto bene tranne che per le mani per le quali invece ho avuto molto freddo perché questo vento fortissimo penetrava tantissimo anche nei guanti quindi vi consiglio ecco di avere anche dei guanti appropriati a tal proposito ho visto un su vari forum di fotografia un diciamo dei guanti che sembrano fatti veramente molto bene per la fotografia è un'azienda che si chiama the heat company che non so se sia inglese o americana ma praticamente una moffola apribile sotto alla quale c'è uno strato diciamo un primo guanto termico touch molto sottile con il quale si può usare anche la macchina fotografica e la caratteristica di questi guanti è che oltre ad essere una moffola e quindi a poterla richiudere ed ha sia il pollice sia quella la parte proprio della moffola che si apre e quindi è molto flessibile la caratteristica è che sia nel sottoquanto che nella moffola si possono mettere quelle bustine termiche che sono una specie di una sostanza chimica che vengono così spezzate a contatto con l'aria producono calore per 5 6 ore ecco se avessi avuto una cosa del genere sarei stato infinitamente meglio purtroppo non le avevo ma sarà una delle cose che acquisterò prossimamente perché vi dico il livello di freddo è veramente notevole considerate che nella giornata più fredda in quota c'era un momento in cui le mie mani erano diventate così fredde che hanno cominciato cominciato a sentire dolore che è passato dopo oltre mezz'ora di camminata in discesa quindi veramente un freddo notevole ecco quindi bisogna andare molto attrezzati perché altrimenti poi si soffre talmente tanto che non si riesce a rimanere il tempo necessario per per fare le foto a parte questo però poi se si va ecco con l'attrezzatura giusta cioè se non ci si carica di troppo peso e si è vestiti nella maniera corretta non ci sono particolari difficoltà operative cioè non 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 è un ambiente ostile non ci sono predatori pericolosi non non c'è nessun pericolo non ci sono burroni crepacci in cui cadere insomma è un terreno scosceso ripido che si sale in salita ma insomma se uno cade al massimo ruzzo laggiù per 10 metri su una collina quindi non succede assolutamente nulla è una cosa tranquillamente alla portata di tutti sottolino la cosa del peso perché se uno non è abituato ad andare in montagna e pensa di fare 100 metri con uno zaino di 15 kg ecco probabilmente muore dopo i primi 20 minuti se invece uno si mantiene con un diciamo una relativa leggerezza l'esperienza diventa molto molto più piacevole bene penso di avervi dato più o meno un'idea della diciamo della del tipo di esperienza se vi può piacere periodo consigliato diciamo tutto l'inverno ma da ottobre novembre meglio ancora fino a febbraio forse anche marzo potrebbe essere un periodo favorevole se volete andare comunque contattate alcune uno o più di queste guide vi saranno vi sapranno poi loro consigliare anche magari quale può essere il periodo migliore anche in relazione a quelle che poi lì sono effettivamente le condizioni ambientali cioè se è nevicato se fa freddo se c'è il sole eccetera eccetera e come al solito ragazzi vi ringrazio per l'attenzione se avete altre domande dubbi curiosità sono come al solito sempre a vostra disposizione potete farmele qui sotto nei commenti grazie e ci vediamo nel prossimo contenuto